Ci eravamo lasciati nella stupenda cornice di Umbria Jazz lo scorso anno 2015 quando avete inaugurato un'importante mostra. Quale mostra? Art Masters and Jads, Contemporary Art Exhibition against Discrimination. L'arte quale espressione creativa, l'arte quale denuncia, l'arte per cosa? L'Art Masters è una mostra collettiva di arte contemporanea che raccoglie artisti umbri del territorio che dialogano con artisti italiani e internazionali su un tema che è quello della discriminazione. L'anno scorso è stata appunto la prima edizione, 16 artisti in mostra all'ex Fatebene Fratelli, videoarte, scultura, pittura e installazioni. Quest'anno replichiamo lo stesso format ampliando il partire degli artisti con delle proposte ancora più interessanti. La sede della collettiva sarà il centro espositivo della Rocca Paolina, il CERP, mentre qui dove siamo ora, a Palazzo dei Priori, nella sala del Grifo e del Leone, abbiamo la personale di Fabio Galeotti, videoarte, che è stato uno degli artisti più apprezzati dell'edizione passata. Lei come direttore artistico ha voluto sempre migliorare perché c'è sempre modo di poter esprimere, anche se devo ricordare agli lettori, agli ascoltatori, che l'anno scorso è stata una bellissima mostra. Quali le novità quest'anno? Quest'anno abbiamo ampliato la sezione della videoarte, ci sarà un'altra artista con un'opera molto molto interessante. Fabio Galeotti ha ancora allargato la dimensione della sua opera e sarà veramente un qualcosa di impressionante. Poi abbiamo un ensemble, un ensemble A23, che è un gruppo del Conservatorio di Perugia, di musica elettronica, elettroacustica, che farà un'installazione appunto visiva e sonora. Poi abbiamo altri scultori, altri pittori, abbiamo cambiato un po' il gruppo degli artisti, tranne gli artisti che fanno parte del nucleo centrale di Art Monsters, che sono rimasti gli stessi e sono praticamente gli artisti del territorio. Quando non può, altro è l'arte che ci insegna a risolvere le problematiche che esistono nel nostro esistente. Allora, ancora tutt'oggi, nell'epoca del terzo millennio, c'è bisogno di denunciare la discriminazione che avviene anche in quest'epoca. Beh, sì, lo vediamo tutti i giorni sotto varie forme, da quelle più esplicite come la discriminazione per razza, per sesso, per credo religioso, a quelle un po' più sottili, legate proprio al modo in cui è costituita la nostra società. Il tema appunto della discriminazione è molto ampio, può essere affrontato in maniera più diretta o anche un po' più concettuale, in forma un po' più concettuale. Infatti gli artisti del gruppo hanno assunto dei approcci diversi. Il tema della discriminazione ha a che fare anche con l'identità, chi sono io, chi è l'altro, chi è il diverso e chi è, appunto, come nel titolo, il mostro. Chi sono i mostri, chi discrimina, chi viene discriminato. È un tema molto ampio. A cui lasciamo la possibilità di vedere per capire di più attraverso questa stupenda mostra che, lo ricordiamo, dal 9 al 31 di luglio avrà due sedi a Perugia e quindi le ricordiamo così, almeno ripetita io, dicevo nei latini, qui nella stupenda sala del Grifo e del Leone dove Fabio Galeotti ci delizierà con la sua videoarte e poi... al centro espositivo Rocca Paolina per la collettiva Art, Monsters & Jazz 24 artisti in mostra dal 15 al 31 luglio. Siamo alla seconda edizione di questa stupenda manifestazione che è Art, Monsters & Jazz Contemporary Art Exhibition Against Discrimination l'arte quale denuncia di un problema che avviene alla discriminazione diverse le forme arte che attraverseranno dal 9 al 31 luglio a Perugia queste tematiche, queste problematiche ne parliamo con uno degli artisti che l'anno scorso ci ha lasciato deliziati con la sua videoarte. Ecco, spieghi ai nostri lettori l'importanza della videoarte e l'importanza dell'arte per denunciare certe discriminazioni che a tutt'oggi, l'ho ripetuto prima con il direttore artistico a tutt'oggi c'è bisogno di denunciare le discriminazioni che avvengono nel terzo millennio. Allora, intanto buongiorno, buonasera la mia arte praticamente indaga un po' quello che è il riappropriarsi del tempo quindi in questo caso è un cercare il se stesso quindi una discriminazione nel senso di ritrovare l'io in prima persona e quindi tutto si basa su questo sul tempo, sul caricare di tempo la propria arte quindi per chi avrà voglia di vedere questo video praticamente avrà la pazienza cosa che oggi come oggi è un po' un problema dei nostri tempi potrà vedere queste opere caricarsi di tempo e quindi instaurare una relazione diretta tra l'opera d'arte e lo spettatore che la guarda e diciamo è una delle grandi sfide del mio indagare di aspettare che lo spettatore resti finché l'opera dura noi siamo abituati che il video in sé per sé è velocità e cambi di fotogramma e ogni due secondi c'è un'inquadratura diversa io utilizzo un unico piano sequenza in più rallentato e quindi va un po' contro violenta quello che è la videoarte in questa violenza io vorrei riappropriarsi del tempo quindi ognuno di noi che abbia un rapporto più profondo con se stesso e con il guardare con il sentire e con l'ascoltare nell'epoca frenetica di questa deriva diciamo del tempo che non ce n'è mai abbastanza inversamente proporzionale alle proprie volontà quindi la lentezza il riappropriarsi come dice lei della saggezza e quello di vedere le cose con calma e con distacco dal mondo è un'espressione artistica che ci può riportare a quello che i latini dicevano la rivolvo cioè la rivoluzione il ritorno indietro in cui il tempo aveva una dimensione atemporale si dice benissimo io stesso qualche volta mi meraviglio non perché le mie opere sono chissà quale frutto del genio ma questo rallentamento questo entrare in relazione con il particolare con l'attesa con la narrativa che avviene in questi video porta in una dimensione che oggi come oggi è un po' sconosciuta lei con quale ha scelto ha scelto un'opera d'arte e l'ha ridisegnata nel senso l'ha fatta rivivere a 360 gradi sì diciamo che io anticipo e proseguo il tema trattato dal pittore quindi prendo in prestito fortunatamente dalla storia dell'arte quindi essenzialmente qui al Palazzo Ipriori abbiamo il Seicento tramite Vermeer quindi sono tre opere di Vermeer prendo in prestito alcuni lavori di Vermeer e anticipo e proseguo il tema trattato dal pittore dando una prospettiva diversa dando una cadenza diversa sicuramente l'attesa quello che potrebbe essere in alcuni momenti la noia perché uno spettatore frettoloso potrebbe annunciare trovarsi davanti a un'opera noiosa nel mio caso io spero che invece sia un grosso punto di attenzione una grossa rivalutazione di questa tranquillità e di questo vedere di questo percepire di questo ascoltare in tutta tranquillità una violenza artistica che ci riporta alla pace alla pace e all'equilibrio del nostro io sì probabilmente va un po' contro a quello che è l'andare oggi di questo tempo in cui è tutto veloce tutto subito tutto immediato e niente debba essere noioso io mi auguro che invece ci sia un'affezione a questo ritrovare il tempo e la voglia di guardare profondamente il bello di questa mostra che mette insieme diverse espressioni dell'arte la videoarte io l'anno scorso ho avuto modo di apprezzare dei scultori che davano vita alla fredda pietra sì è una collettiva e quindi in tutto e per tutto viene dentro viene ospitata con tutte le le opere d'arte i linguaggi possibili che abbiamo trovato quindi c'è videoarte c'è installazioni sonorie c'è pittura c'è scultura c'è fotografia quindi tutti i linguaggi possibili ovviamente non sono tutti rappresentati ma una buona parte è che tutti viaggiano verso questa meta allora art masters and jazz a Perugia oggi il 9 luglio è l'inizio la sua inaugurazione terminerà il 31 quando l'arte è a 360 gradi può insegnarci qualcosa quando l'arte ci fa riappiopiare del nostro tempo quando l'arte ci può far vedere il mondo in maniera diversa e quando può denunciare che ancora oggi nel terzo millennio si debba assistere ad atti di discriminazione di qualsiasi genere sicuramente credo che sia molto piacevole a chi avrà la voglia di venire in questo periodo trovare 24 artisti che si confrontano in un unico tema e quindi con i vari pensieri i vari riflessioni che ognuno di noi ha fatto sull'argomento e che cercherà di tradurre in modo artistico questo